Ciao a tutti, bentornati. Oggi volevo fare un video haul sulla parte intima, reggiseni e slip. Intimissimi, Tezenis e Chiavi. Volevo inserire anche Primark, ma avevo preso soltanto una culotte che vi avevo fatto vedere nell'haul di Primark NYX. E quindi non vi potevo dire moltissimo. Allora, volevo iniziare dicendo che io comunque ho un seno abbondante e mi piacciono gli slip, vesto una L, però mi piacciono a volte anche gli slip, non dico i mutandoni da nonna, però quegli slip che sono un po' altini per alcune occasioni e sono abbastanza comodi o un po' larghini che trovate comunque anche un XL. Ecco, io ho preso le L da Intimissimi e da Tezenis e ho preso un XL da Chiavi, perché vi spiego. Vesto L, però a volte vado al lavoro alle tre e mezza di mattina e torno alle otto di sera e mi piace una mutanda che insomma sia, sapete, come se fosse in pigiama, ecco, quelle mutande che vi fa sembrare di essere a casa in pigiama, a casa vostra nella vostra pace. Ecco, tutto qua. Oppure magari nella fase premestruale che ci si gonfia un po', preferisco non avere cose che ti stringono, ti fanno male la pancia, ecco. La L mi sta, non è che mi sia stretta assolutamente, voglio precisare quello. Non so se anche voi usate questo modo qua ogni tanto di comprare una taglia in più per usare in determinati cose, ecco. Io di solito prendo L, vi ripeto, perché vesto L, però se capita ogni tanto qualche mutanda la prendo, o qualche slip lo prendo XL per un discorso di comodità, soprattutto nella fase premestruale. Ecco, stop. Non che le altre mi fanno segni, perché odio quando hai la mutanda stretta e ti fa il rotolino. No. Allora, iniziamo da Chiavi. Volevo dire che Chiavi, ve la straconsiglio intanto anche per l'intimo. Da noi l'hanno aperta a Verona in negozio fisico, so che c'è online, quindi se comunque voi siete abituati a comprare online e non vi fidate sull'intimo, compratelo. Ecco, purtroppo però le taglie c'è scritto 95, 90, non hanno la classica prima, seconda, ecco. Però, almeno nel cartellino in negozio c'era scritto 90 o 95, quel che è, e sotto c'era scritto cosa corrispondeva. Hanno la coppa anche dalla A normale, la classica coppa AB, poi hanno la C, la D e la F, quelle conformate, ecco. Ehm, cosa dirvi? Beh, comunque ve la consiglio, costano poco e... e ordinatelo. Stop. Alcune cose sono a lavare, quindi non posso farvele vedere. Però, per esempio, io ho preso questo slip qua a 3 euro, questa è un XL, perché la volevo proprio super mega gigante, morbida. e l'ho presa, la fantasia è questa, poi c'erano anche più semplici, costano 3 euro, l'ho presa così e sul colore bordeaux. Ed è fatto così, è tipo una culottina, però vedete che non è altissima comunque, cioè questa è l'altezza del fianco. Non è altissima, però il sedere viene coperto, per intenderci. Quindi, poi ho comprato un completo, lo slip ce l'ho a lavare, però è il tessuto uguale, il colore stesso, ed è fatto come la culotta che vi ho appena fatto vedere. Quella culotta di questo completo è 3 euro e 50, mentre le altre 3 euro. Questo è il reggiseno, ok? È un po' altino in lato, lo uso per andare al lavoro, se sta veramente stra comodi. Cioè, ve lo mettete la mattina presto e alla sera non vi accorgete neanche di averlo intorno. 7 euro, è di cotone, però il colore è tipo quello dei jeans, col merletto bianco. È semplicissimo, però veramente per 7 euro ne vale stra la pena. Questo qua, tra le altre, ho preso una taglia più grande di quello che porto di solito. Per un discorso, non so voi mai, nella fase premestruale, cioè proprio esplodo. E quindi questo è comodo, poi se lavorate come me fuori in giro tante ore, io a volte inizio alle 3 e mezza, ve l'ho detto, torno a casa alle 8 di sera. Avere una cosa che ti stringe il seno tutto il giorno dà un po' fastidio, invece questo qua è proprio comodo, poi per 7 euro. Cioè, voglio dire, ne vale la pena comunque, il tessuto è buono, è cotone, lo lavate tranquillamente che non si distrugge. Poi, per 12,90 ho comprato 3 slip da Tezenis, scusate, adesso Tezenis di questi ho fatto L e anche XL, l'ho visto. Allora, lo slip è alto, è fatto così, sono quelle che fanno un po' da pancerina, però non stringono come la pancerina, è un cotone normale. Di lato ha, se ce la faccio, questa parte in pizzo e poi il resto è tutto a cotone, semplice, e dietro scende un po' più in giù, ecco. Perché ho preso questi qua alti, direte, oddio, oddio, mutandone della nonna, sì, o no, è uguale. Quindi, li ho comprati alti, perché a volte tra calzamaglia oppure se avete in estate un vestito un po' più aderente, questo è comodo, perché voi lo piazzate lì, anche se vi piegate, non avete lo slip che vi cade sotto i piedi, e siete lì così tranquille, non avete mutande che si arrotolano, si arricciolano, fanno, brigano, soprattutto magari in estate, ecco. 12,90 euro, io c'era anche il color carne, però io li ho presi bianco, questo è bianco, non so se notate, nero, bianco, sono uguali, praticamente cambia solo il colore, e grigio. C'è anche disponibile in XL, ecco qua. Niente, sono comodi comunque, cioè nel senso è ovvio che è uno slip un po' a versione nonna, non è di quegli slip wow, sexy, che meraviglia. Però sono comodi, ecco, l'importante secondo me nella vita è anche la comodità, specialmente in alcune occasioni della vita, in alcuni momenti, ecco. Passiamo da intimissimi. Allora, intanto, ah, volevo fare una parentesi, mi hanno detto alcune ragazze che date Zenis hanno ristretto le taglie, nel senso le quinte si fanno fatica a trovare, le quinte C, le quinte invece ci sono ancora. Però chi porta la quarta mi ha detto che è dovuto passare alla quinta, non perché avesse un aumento di seno momentaneo, ma perché mi hanno detto che hanno ristretto le taglie. Adesso non so se è vero, perché non so più andando da Tezenis a comprare le gestine da una vita, perché poi ho iniziato con chiabi e quindi ecco. Quindi non so ragazze se sia vero o che comunque per noi, tettone, ci sono anche questi problemi, lo so, lo so. Quindi vi consiglio chiabi anche per quel motivo lì, perché a taglie giganti, dalle taglie piccole alle taglie grandi, vestono proprio, cioè la quinta avesse proprio quinta anche abbondante, ecco. Intimissimi invece, che poi chiudo la parentesi, io mi trovo bene perché anche intimissimi, adesso ho fatto la quinta C, intanto volevo dire che la commessa mi ha spiegato che la quinta C ha una sua linea di determinati reggiseni. Però mi hanno detto che se voi volete dei reggiseni diversi da quelli che hanno, alcuni reggiseni si possono ordinare anche in quinta C. Ecco, io non ho voluto farmi ordinare niente perché preferisco anche poi provare e vedere come mi sta addosso, magari il reggisenio non mi piace, lo faccio ordinare in quinta C e dopo addosso fa schifo, per esempio, ecco. E volevo dirvi questa cosa, però intimissimi, costa, lo so, ma se volete prenderne uno anche un po' caro, da tenersi, io ne ho comunque da usare nelle occasioni, non per andare al lavoro, ecco. Sappiate che la quinta C veste anche grande, ve lo dico, perché io ho preso, per esempio, questi qua, così già vi faccio vedere, ce l'ho sia in bianco sia in nero, c'era anche in color carne, e questo qua è un color blu, è il nuovo colore che hanno fatto di quelli lisci, semplici, a 25,90€. Ho preso la quinta, coppa C, ma non la riempio, nel senso che tutta questa parte qua, praticamente, io ce l'ho vuota, infatti ogni volta lo prendo, faccio così, e mi sballotto le poppe. Bell' argomento. Però, nel senso, per chi invece lo vuole un po' abbondante, veste comodo, sappiate che intimissimi la quinta C l'ha fatta bella grande. Questo qua, 25,90€, è sul blu, c'è anche color carne, bianco e nero, io bianco e nero, vi dicevo già, ce l'ho, però mi piaceva il blu, non ho niente di blu, volevo testarlo. E per finire, allora, il gestine, vi faccio vedere gli slip dopo, ho preso anche questo, che infatti è veramente, sembra un tendone da circo, è enorme, lo ammetto, però non sapevo, di solito prendevo la quinta, sono andata dritta, dammi la quinta C, invece è bello grande. Questo qua costa di più, costa 35,90€, perché è tutto fatto in pizzo, vedete, eccolo qua. Però, veramente, è strabello, magari, forse, se lo prendo un altro, magari se dovessi comprare un altro, mi farai dare anche una taglia più piccola. Però, veramente, questo veste bene, vi tiene su tutto, vi avvolge bene, è grande, so che è grande, lo so, perché veramente, anche da qua, sembra un tendone da circo. Però, vi piegate, e non è quello che vi piegate, esce tutto, qua rimane dentro, ve lo assicuro. Ecco, poi ho comprato degli slip, però questi sono quelli a 26,90€, può essere di tre, una roba del genere. Il terzo non ce l'ho, è fatto come quello di Tezenis, però color carne di cotone, con la prima fascia in pizzo. Mentre gli altri due, è tutto pizzo. Questi sono quelli nuovi, non li avevo, infatti, mai visti. Allora, c'è, fatto così, è un grigio fumo, è fatta tipo a culotto, un po', mutanda a culotto, ecco, tutta trasparente. E l'altra, che mi è veramente piaciuta un sacco, questi sono un po' più sexy, è fatta così, ok? Tipo a pantaloncino, a culotto, diciamo, e dietro è, è tutta trasparente comunque, dietro è così. Ecco. Basta. Quindi, non so se anche voi avete riscontrato questo discorso di Tezenis, in caso fatemelo sapere. Io, con la scusa che non sto più andando, non ve lo posso dire. Vi straconsiglio chiabi, ve l'ho detto, ve lo ridico. Costa poco, ci sono taglie grandi, vestono bene, ve lo straconsiglio. Anche perché un completo, come ho preso io, 7€ più 3,50€, cioè ve le cavate con poco. Intimissimi, se avete problematiche di seno, perché so che è Triumph, Lovable, comunque hanno un costo. La Lovable, ancora ancora, lo trovate anche a 25€. Comunque sappiate che hanno fatto la Copa C e veste veramente grande, cioè è proprio veritiera come cosa, ecco. E basta. Detto questo, abbiamo finito e vi saluto. Ciao.